Il 17 marzo del 1861 si riunisce a Torino per la prima volta la seduta del Parlamento del Regno d'Italia. La maggioranza di questo Parlamento era formata da liberali che presero immediatamente due decisioni. Estesero lo Statuto Albertino a tutto il Regno d'Italia e lo stesso fecero con la legge elettorale. In pratica potevano votare soltanto i maschi adulti che sapevano leggere e scrivere, che avevano un certo patrimonio e che quindi pagavano una certa quota di tasse. Questo tagliava fuori molta della popolazione. Si è calcolato che su circa 22 milioni di cittadini potevano votare in 628 mila. Chi rimaneva fuori? Tutti gli analfabeti che in questa metà del 1800 erano tantissimi, tutti i contadini ad esempio, ma anche parte di quel ceto medio delle città che pur essendo magari benestante con un buon lavoro non riusciva però ad arrivare al reddito, al censo richiesto. In realtà i democratici avevano proposto il suffragio universale maschile, ma come ti ho detto prima i democratici erano una netta minoranza in Parlamento e quindi la loro proposta fu respinta. A questi liberali del primo Parlamento italiano fu dato il nome di destra storica. Il primo problema che il nuovo governo dovette affrontare fu quello del brigantaggio. Cerchiamo di capire da dove nasce questo problema. Non era sufficiente dire adesso tutto il territorio conquistato fa parte dell'Italia, è l'Italia. Perché bisogna pensare alle enormi differenze che c'erano? Ad esempio tra la popolazione piemontese e quella dell'Italia meridionale. Tutta la parte meridionale si era trovata improvvisamente governata dalle leggi del Piemonte. Cioè abbiamo detto prima lo statuto albertino è stato esteso al resto della penisola. Ma se le leggi del Piemonte potevano andare bene per la Lombardia, per l'Emilia Romagna, per la Toscana, non andavano bene per la parte meridionale dell'Italia che aveva problemi completamente diversi, una popolazione con tradizioni e abitudini diverse, un paesaggio e un'economia completamente diverse. Uno dei problemi più grandi fu ad esempio la leva obbligatoria, cioè l'obbligatorietà di andare a fare il servizio militare. In Sicilia ad esempio questo non esisteva, tanto per fare un esempio non era mai esistito. Qual era il problema? Il problema era che la leva obbligatoria toglieva dei giovani al lavoro dei campi e questo si creava problemi a una vita contadina già molto difficile. Oppure tutti i prefetti erano piemontesi, non c'era nessun locale a governare nelle città e nei paesi. Come reazione a questo stato di malcontento si formarono in tutto il meridione delle bande di ribelli che si unirono a quelle bande di briganti che già comunque esistevano. Chi erano questi ribelli? Erano i contadini che magari scappavano per non dover prestare il servizio militare, erano ex soldati dell'esercito borbonico, erano insomma tutti quelli che non volevano sottostare alle leggi piemontesi. Queste bande vivevano di rapine, di omicidi anche e soprattutto attaccavano con incendi, con furti, con atti comunque violenti tutto ciò che poteva rappresentare, tutto ciò che era simbolo di questo nuovo regno d'Italia. Per il governo era difficile contrastare questi briganti perché i briganti erano bande, non erano un esercito regolare e ben definito. In più si nascondevano in un territorio che conoscevano benissimo e soprattutto erano protetti dalla popolazione locale. La reazione dello stato fu molto forte e dopo qualche anno lo stato addirittura di fronte a quel fenomeno che diventava ogni giorno più violento, proclamò lo stato d'assedio e promulgò una serie di leggi che provocò l'arresto e la condanna a morte di tutti i briganti che riuscivano a catturare. Questo è un grafico che ti fa vedere pur senza delle cifre precise i morti per morte violenta dei primi nove mesi del 1863. Pare che oltre ad impiegare più della metà dell'esercito italiano contro questi briganti, alla fine la somma dei morti di questi anni di lotta al brigantaggio superò il numero di morti delle guerre d'indipendenza. Questo solo per darti un'idea di che cosa significò la lotta al brigantaggio. Le bande ribelli furono debellate se non definitivamente ma per la maggior parte solo nel 1865. Quindi questo primo regno d'Italia è iniziato con delle grandi debolezze. L'esclusione dalla partecipazione alla politica della maggioranza della popolazione e questo fenomeno del brigantaggio. Ce n'erano però altri di problemi. Allora il primo, il più evidente, era che l'Italia comunque non era ancora intera per così dire. Mancava lo stato pontificio seppur ridotto e mancava il Veneto. In più il Papa non riconosceva questo stato italiano, pensava che Vittorio Emanuele II fosse un usurpatore. E poi c'era la Francia con Napoleone III che difendeva il Papa e impediva che anche quel territorio fosse unito al resto d'Italia. Questa dello stato pontificio era una problematica molto sentita, venne chiamata la questione romana perché era un vero e proprio problema. Questa è una vignetta, una stampa dell'epoca che fa vedere come la parte settentrionale dell'Italia, sta tendendo una mano alla parte meridionale, queste sono delle maschere del carnevale, qui puoi riconoscere Pulcinella, ma questo allacciamento delle due mani è impedito dallo stato pontificio. Addirittura i simboli del papato, la tiara e le chiavi, sono sulla testa su un teschio. Si pensò a un certo punto di chiedere al solito Garibaldi di risolvere la questione romana e Garibaldi si impegnò a cercare di far nascere una rivolta all'interno di Roma, ma Napoleone III immediatamente sventò questo tentativo. Anche questa che vedi qui è una vignetta satirica dell'epoca che fa vedere un momento di caccia, apertura della caccia a Roma si intitola. Allora, questi sono Garibaldi e Vittorio Emanuele II che stanno sparando a questi uccellacci, a questi pipistrelli clericali. Vedi che questo è il simbolo del papa, qui ci sono sacerdoti, monaci eccetera. Questo è Napoleone III che sta correndo per cercare di far smettere questa caccia, questo è il papa, questo è il re Franceschiello che cerca di sostenere e difendere il papa e poi curiosamente qui di lato ci sono due cacciatori inglesi che stanno commentando la scena e l'inglese mentre carica il fucile dice al suo compare lasciate che Vittorio faccia quel bel tiro che noi saremo più che contenti. in realtà ci vorrà ancora qualche anno per risolvere la questione. Nel frattempo momentaneamente la capitale fu spostata da Torino a Firenze nel 1864 in attesa di tempi migliori.